Toni Colbrelli, miglior azzurro ai mondiali Ponferrada, domani un'altra esperienza in maglia azzurra, cosa ti aspetti dalla gara di domani? Ma sì, la maglia azzurra non si rinuncia mai perché quando ho sentito Davide che aveva l'opportunità di percorrere ho detto subito di sì. Sì, domani un bel test in chiave Sanremo anche se non sono proprio al top però come già ripeto indossare la maglia azzurra ti dà anche le grinta che non c'hai e vedremo domani sul percorso come starò e magari sicuramente dando una mano agli altri miei compagni di reazione. Grazie Sonia e bocca al lupo. Crepe il lupo, grazie.